bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questi pochi minuti innanzitutto ci tenevo a dirvi buona domenica e a ringraziarvi per la partecipazione di ieri pomeriggio nelle open del dream hack di fortnite mi sono divertito davvero tanto grazie davvero per essere rimasti in tantissimi per un pelo per poco siamo arrivati a 339 punti ma siamo crashati tutti e due nell'ultimo partita e quindi niente da fare comunque niente da fare ugualmente prima però di buttarci nel video di oggi dove parlerò del nuovo portale ovviamente che è presente in game di alcune skin che stanno per arrivare 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 di tante news volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi che si tratta ovviamente della soluzione alla sfida uscita ieri per quanto riguarda il winterfest avevamo visto che bisognava andare nelle varie location dedicate agli headquarters dove c'erano gli aeroplani la sfida di ieri invece chiede di ballare alla base di alcuni alberi addobbati a natale questa ragazzi è la mappa con tutte le location degli alberi natalizi curioso il fatto che siano solo nella parte alta io personalmente non ho ancora fatto la sfida ma mi sembra davvero strano che non ce ne sia neanche uno a pantano a brughiere o a corso commercio comunque ragazzi alcune location sono qua andateci ballate e vi portate a casa la nuova ricompensa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi state già vedendo nella foto alle mie spalle ciò che è successo ieri mattina già due giorni fa avevamo visto come un nuovo fascio di luce stava uscendo dal punto zero e stava andando a toccare terra questa è un'immagine molto chiara che ci fa vedere gli ultimi minuti del fascio prima appunto che toccasse il suolo qua lo vediamo ancora in maniera perfetta siamo vicino alla diga avete capito benissimo dove finisce il lago e inizia proprio la diga che divide tutta la parte ovest dalla parte est della mappa quando la il fascio luminoso ha toccato terra sbam si è aperto un nuovo portale e al suo interno c'è davvero qualcosa di molto curioso intanto vediamo assieme in questo spezzone quello che c'è dentro così potete un attimo farvi un'idea a parte che è veramente meraviglioso l'effetto che danno al portale in game quindi che è questo effetto dove in realtà tu non ti puoi avvicinare ma più rimani lontano più il portale si apre e quindi puoi vedere ciò che c'è al suo interno abbiamo ovviamente visto che il background di quello che è presente non è altro che qualcosa che ci indica l'universo marvel una cosa veramente curiosa perché a questo punto dobbiamo farci delle domande sul perché ci sono questi portali che significato hanno con la storyline perché qua stiamo parlando della storyline della season 5 quindi lo zero point che sta appunto aprendo degli squarci di dimensioni mappe nella nostra mappa attuale il primo quello che abbiamo visto qualche giorno fa 4 5 giorni fa che sembra mostri borgo allegro il secondo che mostri l'universo marvel la mia idea è che potrebbero anche essere semplicemente dei piccoli sneak peek anche perché sappiamo io non ho idea del perché non si veda l'immagine eccola qua ragazzi sappiamo che sta per arrivare il nuovo pack marvel quello che contiene tre skin taskmaster capitan marvel e black panther magari il fatto di questo portale potrebbe essere semplicemente un input per il pack che sta arrivando non lo sappiamo assolutamente ma sappiamo che una cosa curiosa è che nel momento in cui si è aperto il portale in game è stato pubblicato questo post su twitter da parte di fortnite galactus uguale defeated quindi galactus è stato battuto for a limited time and in collaboration with marvel and disney celebrate victory in the nexus war with this capsule collection of fortnite x marvel gear quindi arrivano ragazzi le nuove magliette dedicate ufficiali è dedicate al al crossover che c'è tra epic games e marvel devo dire non mi fanno proprio impazzire tantissimo hanno pigliato un rettangolo gli hanno sbattuto sopra la maglietta ma se voi andate a cercare su amazon questi sono già disponibili e potete farvi un regalo di natale oltre che un bel ricordo appunto per quello che riguarda l'ultimo evento di fortnite siamo già passati al nuovo argomento ragazzi che vi voglio ricordare si tratta del pack per del celebration pack per tutti i possessori del plus quindi se avete ragazzi una ps una playstation e siete abbonati con il plus potete andare a riscattare gratuitamente questa skin ne ho già viste due o tre in game sono veramente molto molto carine vi ricordo anche che se invece avete una ps5 potete riscuotere un altro pack non so se sia già disponibile comunque uno indaco mi sembra che si chiami in inglese lo trovate ovviamente nello store e lo riscuotete totally free e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi che è tra l'altro anche l'ultimo argomento del video news ed è una roba molto curiosa noi sappiamo che è presente il frozen legend pack su fortnite tra l'altro lo hanno anche riproposto non molto tempo fa ma nei file di gioco è presente dalla patch 15.10 un nuovo bundle non si chiama non frozen legend ma qualcosa di molto molto simile ora l'assonanza non me la ricordo ma l'immagine è questa e come vedete c'è una versione ghiacciata di alla deriva uno della parte femminile del love ranger e l'altro che ovviamente avete capito chi è perché io non me lo ricordo in questo momento è un po da scammata questo pack perché in realtà uno già ce l'abbiamo e penso che si aggiri intorno ai 19 e 99 insomma ragazzi anche qua se lo volete nella collezione molto probabilmente arriverà nei prossimi giorni io per oggi ragazzi vi ringrazio le news sono terminate per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di schiacciare il like per aiutarmi a mandarlo nei consigliati se volete lasciate un commentino noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao